Siamo per celebrare la Messa Solemne in onore di San Donato in quest'anno 2009. Ecco, tutta la popolazione e i d'attesi in chiesa e i sacerdoti che concelebriamo siamo qui presenti e vogliamo così onorare San Donato Martire. San Donato Martire 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 San Don 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 Martire Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.